eccoci e bentornati sul mio canale breaking news su call of duty infinite warfare che ieri sera ha ricevuto un aggiornamento interno una patch che è andata ad introdurre alcune cose riportate sulle pagine di reddit.com dall'infinity world scopriamole insieme è stato corretto un bug che impediva il superamento di determinate sfide con le smg quando uccidevamo con lo scivolamento poi sono state fatte delle correzioni al vpr c'è stato un leggero incremento del rinculo un leggero aggiustamento della portata e un aggiustamento dei tempi di ricarica poi ci sono state varie correzioni alle mappe è stato fixato un problema alla funzione ghost dello specialista phantom e poi correzioni varie alla nuova mappa zombie shaolin shuffle arrivata con l'ultimo dlc disponibile per il titolo fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale